Se in questo caso avete avviato il gioco God of War Ragnarok ma sentite solamente l'audio, c'è lo schermo nero quindi black screen su God of War e si sente solo l'audio e quindi non riuscite neanche a vedere Kratos che uccite e fa quello che deve fare. Quindi in questo caso è possibile risolvere il problema attraverso la scheda grafica nostra perché il problema se persiste allora sono i problemi riguardo ai driver della scheda grafica Nvidia oppure AMD. In descrizione ti ho lasciato così il link che ti porterà sulla pagina di AMD Software Adrenaline Edition un software che ti permetterà di aggiornare i driver della tua scheda grafica AMD e di configurare così i tuoi giochi sempre su AMD oppure Nvidia App l'applicazione per scaricare e aggiornare i driver. L'applicazione rilasciata da Nvidia è un'applicazione con l'applicazione più recente di Nvidia che è veramente ottima, spettacolare. Quindi scarichiamo così la beta, la installiamo, sono 700 megabyte. Andiamo a scrivere Nvidia App e vediamo se dobbiamo fare qualche aggiornamento sulla nostra scheda grafica perché una volta aggiornata devi riavviare il tuo computer. Vai su Driver, cerca più volte qua se ci sono dei driver da scaricare e installare, Drive Game Ready oppure Driver Studio. Installiamo così i nostri driver per non avere sempre problemi di black screen perché se tu hai una serie 3000 o 4000 di RTX e ricevi questi problemi di black screen io invece ho una 1660 Super e i giochi mi vanno ancora benissimo senza questo schermo nero. Quindi scarichi e installa così i driver della tua scheda grafica, AMD come ho detto io questo qua non lo posso installare perché è un software che non sopporta il mio computer perché non ho una scheda grafica AMD. Quindi è la stessa cosa come il programma Nvidia App e poi abbiamo i DirectX per Nvidia o per il nostro sistema operativo per i DirectX 9, 10 e 11 e i problemi riguardo all'out. Scarichi e installi così questo setup, quindi questo software, lo andiamo a scaricare e installare, accettiamo il contratto e fai avanti, non installare questo bing tool, fai avanti e installi così questo software. Una volta fatto vai direttamente su grafica, impostazioni grafica, può essere il problema anche qua sopra, quindi vai su sfoglia e inserisci l'applicazione di God of War Ragnarok.exe. Devi entrare nella cartella del gioco e prendere God of War Ragnarok.exe. Lo aggiungi, scendi fino a giù fino a trovare God of War. Eccolo qua. Opzioni, prestazioni elevate e metti la tua scheda grafica e fai salva. Una volta fatto il tutto, devi riavviare il tuo computer. Riavvia e prova ad avviare God of War Ragnarok. Per altri problemi ancora ci sono i video su DirectX Error, God of War non si avvia, oppure come aumentare gli FPS su God of War. Tutto nelle schede, quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.